Una volta provveduto all'installazione della guida perimetrale e dei montanti ad interasse di 40 cm, provvediamo al montaggio dei pannelli in cartongesso. In questo caso i pannelli sono da 1 cm e durante la loro installazione si provvederà a passare i fili per l'illuminazione e a realizzare i fori per eventuali faretti. Grazie a tutti.